Ma soddisfatto no, sinceramente non penso che si è persa la partita per sfortuna perché credo che la sfortuna nel calcio non esiste, che si poteva far meglio sia sulla circostanza del primo gol dove eravamo tutti schierati e siamo stati ingenui comunque a far entrare dentro in conduzione Ronaldo per andare a concludere e soprattutto anche sul tiro che non era un tiro fortissimo si poteva far meglio e poi soprattutto sul secondo gol dove si è perso palla in uscita e quindi dispiacere soprattutto per quello, un po' la malizia perché il primo gol si è preso che eravamo in dieci quindi molto probabilmente dovevamo essere più furbi a far sì che rientrasse Cornelius e magari Roberto lo facessimo uscire con la barella però ripeto, rammarico per aver perso una partita del genere nonostante poi nel secondo tempo penso che i ragazzi avrebbero unitato anche un risultato di pareggio però purtroppo questo non è avvenuto quindi sicuramente non si può essere soddisfatti nel momento in cui si perde una partita anche se stasera abbiamo affrontato la prima del campionato Di buono portiamo che comunque credo che nel secondo tempo soprattutto nel finale abbiamo dato la sensazione di poter portare a casa il risultato abbiamo messo sotto l'aspetto dell'occasione da gol in difficoltà una squadra forte come la Juventus L'aspetto positivo è che comunque nonostante magari dei giocatori abbiano giocato giovedì sera e quindi rispetto alla Juventus si è recuperato 24 ore in meno e si è lavorato 24 ore in meno e abbiamo finito increscendo fisicamente quindi questo è un aspetto molto importante E' chiaro che poi a volte i risultati sono importanti per darti convinzione, per darti stimoli, per darti entusiasmo e nel momento in cui si perde ripeto si può essere stasera soddisfatti di una prestazione soprattutto nel secondo tempo a differenza del primo dove siamo stati bravi a concedere poco ma anche noi ad aver costruito veramente poco perché spesso e volentieri abbiamo sbagliato i passaggi semplici in costruzione Quindi abbiamo dato modo alla Juventus di metterci un po' sotto sotto l'aspetto del possesso pala, ripeto pur se non si è subito molto sotto l'aspetto dell'occasione E quindi però si parte da questi aspetti positivi ma sicuramente si avrà sugli errori commessi che poi ti hanno portato a non portare a casa un risultato positivo Io penso sia un discorso anche di mentalità però sono sempre dell'idea che le partite aggredisci, le partite in cui anche se sei in vantaggio continui ad avere il predominio e continui a giocare Alla fine sono quelle partite in cui spendi meno fisicamente a patto che tu abbia la forza di rimanere corto e non prendere tante ripartenze E spendi meno mentalmente perché la nostra testa fa molta più fatica a correre dietro a un avversario che gioca a calcio che non a giocare a calcio Quindi alla fine penso che se riesci ad avere un grande predominio sulla partita il dispendio di energie è minore Poi ci sono chiaramente dei modi di giocare e dei tipi di squadre e qualche problematica te la possono creare Perché anche loro sono una squadra che sulle pressioni ti vengono via lunghi, hanno molti riferimenti fisici davanti e sulle palle ferme sono fisici e periolosi Quindi le problematiche ti possono venire fuori anche dal modo di giocare degli avversari, il dispendio di energetico è lo stesso Però per mentalità io preferisco una squadra che continua a giocare ma che continua a giocare nella metà campo avversario E no come facciamo noi a volte in questo tipo di situazione ci mettiamo a palleggiare ai limiti della nostra area Favorendo una grande pressione dopo 4-5 passaggi e se si esce velocemente bene se no si rischia Quindi dovrebbe essere il contrario, uscire velocemente e poi andare a un lungo palleggio nella metà campo avversario Grazie